Buongiorno, questo è un breve video di presentazione per far capire cosa vuol dire fare una campagna di equity crowdfunding con Reanima. Reanima è un portale di equity crowdfunding orientato al terzo settore, quindi alle imprese sociali. Cos'è un'impresa sociale? È una SRL creata da persone fisiche, giuridiche o anche da delle on-loose. Ossia c'è una misura camerale, nella misura camerale si vede quel bel cerco con i soci. L'impresa sociale è comunque un SRL che può dare delle quote. Fare equity crowdfunding significa mettere a disposizione del mercato, degli stakeholder, queste quote sociali. Quindi i passaggi per fare una raccolta di equity crowdfunding sono semplici. O ho già un'impresa sociale o costituisco un'impresa sociale. Definisco quello che possa essere il valore dell'importo della mia impresa sociale e quanto vale un'impresa sociale. Facciamola semplice, visto che Reanima si orienta anche a real estate. Un'impresa sociale che ha un budget di 100.000 euro vuole comprare un immobile da 500.000 euro. Ma questi 500.000 euro non li ha, ma ha una bellissima community con cui vuole entrare in società. Quindi dice questa mia impresa sociale con 100.000 euro, metto un immobile da 500.000 euro, dico che il nuovo soggetto vale un milione di euro. Questi sono tutti i ragionamenti che adesso li faccio facili, ma sono i ragionamenti cardine per rendere una campagna di successo e quindi definire bene questi valori. Quindi diciamo che abbiamo una società che a questo punto vale un milione di euro e io voglio andare alla ricerca di questi 500.000 euro, perché? E io non ce li ho. Quindi cosa dico? Ragazzi, io metto sul piatto il 49,9% oppure immobile vale 400.000 euro, dico metto sul piatto 400.000 euro che è il 40% di questa mia società. Quindi l'obiettivo è andare a vendere quel 40% in modo tale che i nuovi soci saranno proprietari di una piccola quota in funzione di quanti soldi hanno messo dentro. Chi metterà dentro 100.000 euro avrà il 20% di questo 400.000 euro, chi ne metterà magari solo 400 euro avrà una più piccola parte. Lo scopo di queste imprese sociali è di creare questa collettività che siano la base per il rilancio, per la crescita, per lo sviluppo dell'impresa sociale. Tutti i nuovi soci saranno degli stakeholder che magari saranno interessati a entrare in società perché hanno interesse che questa idea, di questo ideale, di nuovo soggetto possa vivere. In più c'è anche il concetto che se c'è un'impresa sociale si sa che se si mette 1.000 euro ci sono dei vantaggi fiscali, vantaggi fiscali ossia di defiscalizzazione, di detrazione delle imposte. Nel 2020 era il 50%, nel 2019 era il 30%, nel 2021 non si sa cosa succederà, ma comunque questo è il quanto che se uno oggi mette 1.000 euro ha comunque un risparmio di 500 euro sul suo cassetto, diciamo, sulla sua dichiarazione fiscale. Quindi, impresa sociale orientata ad avere nuovi soci. Questo è il passaggio e questo è quanto può fare Reanima. Quindi, il primo grande passaggio, il primo grande passaggio è quello di identificare quelli che sono i propri stakeholder. Reanima è autorizzata a Consom per permetterti di fare quello che si dice offerta al pubblico risparmio. Reanima ti può aiutare a raccogliere dei fondi. La missione marketing più grande è quella che fai tu all'inizio con le tue amicizie più vicine. Prima di iniziare un qualsiasi percorso è assolutamente importante, determinante, che tu ti metti in contatto con i tuoi primi finanziatori. Grazie. 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 Grazie.